Sì, assolutamente sì, nel senso che innanzitutto noi dovremmo cercare subito di fare opposizione perché la destra si è presentata in maniera abbastanza rucciosa, con molte contraddizioni ma dando subito il segnale di quello che vuole essere, del tutto legittimo perché siamo in democrazia, hanno vinto le elezioni però noi dobbiamo fare l'opposizione, quindi se noi facciamo bene l'opposizione da subito cercando fra l'altro di coordinare un po' questa opposizione in Parlamento sicuramente non perderemo il terreno che invece potremmo perdere se le cose andassero di errore in errore come suggeriva Roncone, cioè come prevedeva Roncone se appunto le cose non riescano a raddrizzarsi da subito però detto questo, che è fondamentale oggi agire, perché noi possiamo essere rosicchiati da una parte e dall'altra? Perché è inutile lamentarsi, cioè Conte ci leva i voti, Calenda è cattivo, ma ognuno fa il suo mestiere è chiaro che di fronte a un PD indebolito ognuno cerca di conquistarsi un maggiore spazio al sole quindi il tema non sono gli altri, il tema siamo noi e qual è il tema che io vedo spalancato di fronte a noi? è quello di stare un po' più al centro? oppure è quello di recuperare quei voti delle persone umili del proletariato delle persone che faticano, non si tratta soltanto di quelli che hanno un reddito basso si tratta della fatica del viver che ormai investe tanti ma investe anche quella piccola e media impresa che fatica a pagare gli stipendi che ha subito fortemente la crisi, la fatica nell'export anche se poi ha resistito questa Italia laboriosa, normale, che non fa parte del circuito dei privilegiati noi abbiamo perso moltissimo in questa parte dell'Italia e dell'elettorato non possiamo essere un partito di sinistra che vota, che sono i ricchi che sono i ricchi a votare e non funziona è il tema dello ZTL sul quale siete in realtà tutti d'accordo poi sulle ricette per ottenere questo obiettivo insomma, però bisogna allora capire come si affrontano ma le faccio questa domanda mi scusi perché abbiamo poco tempo mi dispiace molto perché c'è tantissimo da dire però le chiedo esplicitamente se questo lavoro lo sta facendo meglio Conte e perché e se Conte l'ha delusa soprattutto per il no ad appoggiare la candidatura di Alessio D'Amato nel Lazio cioè se è stato un investimento un po' eccessivo da parte sua su Conte sono due... no, 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 no qui vediamo le cose con calma e con verità Conte ha contribuito a far cadere il governo Draghi e io gli ho detto apertamente che è stato un errore politico ma Conte aveva accumulato un contenzioso molto lungo era in sofferenza, aveva dato segnali in questa direzione quindi non è stato un colpo improvviso non è stato neppure, diciamo, accontentato almeno in parte rispetto ai punti programmatici che aveva posto e le conclusioni che ha fatto Draghi nella discussione parlamentare sono state verso di lui abbastanza dure non dico sprezzanti ma dure quindi lui ha sbagliato ma lì aveva dei motivi, delle motivazioni è un contenzioso lungo io non sono affatto pentito di anzi di aver privilegiato anche un rapporto con loro perché abbiamo governato il paese bene abbiamo ottenuto dei risultati quindi abbiamo fatto bene all'Italia e penso che anche l'incontro con il Movimento 5 Stelle abbia cambiato loro e in parte anche cambiato noi perché abbiamo accettato una sfida difficile che abbiamo in gran parte vinto detto questo la questione invece è